eccoci buonasera a tutti sono luca bianchini lui oscar farinetti ed è qui con noi al circolo dei lettori a torino una città che è la mia città fa un po ridere questo inizio così sembra un po telecity sapete le tv locali allora oscar ed io in realtà non ci conosciamo bene ma ci siamo piaciuti senza conoscerci che è una delle cose strane della vita e che non sempre è comune no però quando poi abbiamo tutti e due una cosa in comune secondo me che e che credo ci ha comuni togliamo ogni formalismo ci andiamo subito al passo successivo in questo secondo me mi metto anch'io siamo dei piemontesi un po atipici non partiamo tanto dalle presentazioni diamo una confidenza ci rischiamo sulla confidenza che è un azzardo però è una cosa che rallunga che può pagare non so se sei d'accordo con me ti piace questa prima riflessione e c'è il primo passo verso l'armonia che è il vero obiettivo di tutti noi umani costruire l'armonia no non mi fai uscire dal mio seminario beh questo non lo so io non mi sono mai posto degli obiettivi nella vita mio obiettivo vero è sopravvivere alla giornata e arrivare a domani questo dopo che ho compiuto i 50 anni non so se anche qualcuno ne ha già compiuti tra di voi forse sì c'è anche voi dopo i 50 anni avete iniziato a ragionare così tipo arriviamo a domani ho iniziato a fare due cose dire no e dire arriviamo a domani però siamo qua per questo libro che è nata prima la gallina puntini puntini forse ah c'è paolo da milano hai un rivale ciao paolo vuoi salire e fare un saluto lascio tranquilli allora no oscar ha scritto questo libro e me l'ha mandato ed è per me è stata una grande gioia leggerlo e è un libro di racconti io non amo particolarmente i racconti ma alla fine leggendolo ho capito che non erano racconti cioè è una sorta di acquerello di vite ed era una sorta di passeggiata nella storia che tu hai fatto dentro la tua mente e intorno a te ma la prima domanda che ti faccio perché poi entreremo un po in alcune di queste storie non so se qualcuno l'ha già letto è che una domanda che apparentemente è strana ma come sono strano io è qual è la tua cosa mangia colazione perché secondo me dalla tua risposta io capirò molte cose che mi spiegheranno questo libro quando sono a casa un caffè e basta nient'altro quando sono in albergo c'è molto spesso mi abbuffo prendo le uova il bacon poi se c'è dei paninetti già fatti e poi croissant e poi un cappuccino e bevo dell'ace questo negli hotel perché mi sveglio sempre un po prima per farla perché mi piace da pazzi questa colazione a service coloratissima anzi giudico gli hotel dalle colazioni più che dai materassi a casa un caffè basta perché cosa solo caffè perché tutta la vita che prendo solo un caffè non ho mai fatto una colazione da seduto anche in piedi cioè tu fai un caffè e poi aspetti pranzo poi aspetto il pranzo che non sempre faccio quindi tre volte faccio cappuccino e croissant in un autogrill e poi faccio cena però devi pensare che io passo mediamente quattro giorni alla settimana in giro per l'italia per il mondo e quindi a casa sono poi quindi alla fine ti bevi tre caffè alla settimana sono cioè tu prendi caffè perché il giorno prima ti sei fatto la colazione che noi facciamo il sabato sì sì la faccio solo non è che hai mentito però cioè il caffè te lo prendi quei tre giorni a casa per ti spiego da quando è venuto questo quando ho deciso che non voglio più avere abitudini la uno dei grandi problemi secondo me del nostro paese è l'abitudine siamo abitudinari cioè incredibile che il popolo italiano che c'è noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere nel paese più bio diverso al mondo e ordiniamo il solito siamo il popolo del nord del mondo che ordina di più il solito e ce ne vantiamo e usiamo lo stesso olio extravergine tutta la vita lo stesso vino tutta la vita invece vario l'altro giorno per esempio ho bevuto la sua barbera perché ho visto che è arrivata nei primi cento vini del mondo ho detto ma cazzo come sarà sta barbera è andato a verma è proprio buona bravo questo lo uso per dire che anche il mio barolo è arrivato tra i primi cento vini del mondo allora ma detto dagli americani mai spettato però il tema è non avere abitudini cambiare non fare sempre le solite cose secondo me il primo passo che devono fare i cittadini italiani per modificare perché noi abbiamo bisogno di mutare perché questa generazione un po è un po molla un po pigra è un po e secondo me se usciamo dalle consuetudini miglioreremo ti parlavo di questa cosa perché il cibo è sempre presente nei tuoi racconti ma alla fine la sensazione che io ho avuto leggendoli tutti sono 52 sono molto diversi tra loro è stata una sorta di cena collettiva tra personaggi della storia ci si passa da raffaello a città eter parisi cioè ci sono tutti socrate e poi c'è la lattaglia del paese che misura il latte nelle langhe prendendolo dalla lattona di alluminio mi ha ricordato mio nonno ecco di tutti i personaggi che tu hai raccontato in modo particolare poi entreremo un po nel merito con chi è che ti piacerebbe andare a cena vabbè non c'è dubbio con ne devo dire almeno due i miei due preferiti aristotele e emmanuel kant ma che ridere che lui è al mito di emmanuel kant che io kant l'unica cosa che ricordi bene è che non lo capivo cioè non so voi chi l'ha studiato kant non si capisce lui proprio dice ah io kant lo amo ma parlaci di te kant cioè facciamo il momento università beh l'illuminismo c'è una c'è uno dei miei racconti spiega come nasce l'illuminismo tieni presente che sono tutte scuse per raccontare un po i nostri tempi no l'illuminismo nasce da da una catastrofe noi umani cambiamo completamente dopo le catastrofi perché rimbalziamo prima città da milano e la sua verbera io e il mio barolo noi nelle langhe ci siamo messi a fare vino buono dopo averne ammazzati 19 ha cercato i 15 nel 86 e c'è una storia che riguarda che raccontano lo scandalo e metano quando tocchiamo il fondo rimbalziamo nel 1755 avviene il più grande terremoto della storia d'europa mai mai verificato se uno simile si chiama di lisbona perché l'epicentro è a 30 km da lisbona ma interessa tutta europa interessa algeri interessa marocco centinaia di migliaia di persone e quelle che si salvano che sono andati sulla spiaggia perché il mare poi si ritira sia quello dell'africa del nord che quello dell'europa dell'ovest si ritira e torna con onde da 15 20 metri uccide anche quelli sulla spiaggia è una roba che scioccola europa completamente e cosa succede succede che parte volter a realizzare un poema dedicato a questo tema e spiega la sua idea di rapporto tra uomo e natura cioè si mettono a ragionare su questo evento a ragionare sul rapporto tra l'uomo e natura lì risponde rosso mandandolo al diavolo perché come sapete volter e rosso hanno passato la vita ad odiarsi a scriversi e mandarsi a stendere a dirsene una per colore poi incredibilmente muoiono ad un mese di distanza l'uno dall'altro e sono seppelliti uno contro l'altro nel pantheon quindi sono vicini anche e poi arriva Immanuel Kant che mette d'accordo tutti e che dice i due vedete l'errore che compiete è che siete troppo antropocentrici c'è basate tutti i vostri ragionamenti sull'uomo è colpa della natura ma riferita al buono è la natura matrigna che fa male a noi umani siamo noi umani che facciamo male alla natura quello che continuiamo a fare ora si è molto simile infatti è per quello volevo al certo punto arriva Immanuel Kant che fa sto ragionamento pazzesco e dice no siamo un puntino nell'universo ragazzi noi siamo così protagonisti lui aveva un senso del dubbio straordinario e quindi chissà siamo convinti di dominare noi è l'universo quindi per dirla in parole povere dice guardate in cielo la meraviglia del celeste e poi guardate dentro di voi nel vostro cuore e dice l'obiettivo della felicità si raggiunge etica estetica vi chiama quindi guardando la meraviglia della natura del mondo convinti di essere un puntino che se ci comportiamo bene possiamo migliorarlo ma guardiamo nel nostro cuore quindi e racconto le loro morti hai notato che c'è molta morte io amo tutto il pezzo della morte se vuoi ne parliamo subito no vi giuro è troppo bello perché io come lui avendo paura della morte probabilmente mi piace parlarne un modo anche per esorcizzarla e quindi c'è un lungo elenco di frasi che non siamo sicuri che siano state dette come ultima frase prima di morire che solo che ti viene voglia di morire solo per dirla tu no ve le cito e tu intanto pensa la tua perché così ti anticipo una domanda che almeno vediamo se le trovo perché purtroppo devo andare in ordine comunque sono troppo belle vabbè inizio con italo calvino che poverino aveva varie flebo e prima di morire pare che abbia detto sembra un lampadario ma non lo trovate verissimo mentre 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 finisco con canto se vuoi solo per finire che canto muore dicendo va bene così cioè secondo me una persona che muore dicendo va ben parei non è male non è vissuto in vano e lì parto con vasco rossi che secondo me è ripreso canto e ci ha infatti impazzire su sto va bene va bene ma chi è quello poi racconti anche di quello lì dell'oste che ha fatto l'insalata vasco rossi che tamarrata no è bravissimo è buona l'insalata no ma ti porto si chiama filippo di albaretto torre lui lo conosce no ma no da non perdere assolutamente number one e fa l'insalata ma lui è un fanatico ma quelli che fa non so se io ho detto carata marro solo il nome c'è dei fanatici di vasco rossi ma in genere chi è fanatico di vasco rossi va fuori di testa perché vasco rossi c'è uno che fa il vino come noi bravissimo si chiama walter massa che dice che il suo enologo è vasco rossi sono i malati allora vediamo le citazioni della morte poi spiego perché siamo arrivati a quello cecov da tanto che non bevevo champagne cioè quello va bene anche per me ma perché lo beve e muore è oscar wilde o se ne va quella carta da parati o me ne vado io questa va bene anche grande poi dino buzzati fantastico bene passi in passetto mi avvio non è bellissimo e poi in mano al canto va bene così william borough torno subito che anche non è male pavese non fate troppi pettegolezzi lo sapete è venuto qua vicino e no ho finito dimmi la tua perché perché arrivo a raccontare le morti e poi però dici la tua perché spiego la nostra vita è un cammino tra due punti a e b di cui sappiamo molto poco sappiamo un tubo nella nascita nella morte oddio ci siamo fatti dei delle idee le abbiamo chiamate anche religioni va bene così perché si tratta di speranza è una speranza per me a prescindere dal fatto che io sono un laico tuttavia trovo che bellissima speranza quindi il pensare di vivere sperando di andare in paradiso secondo me è una figata bella è una buona idea un'ottima idea così nel frattempo aiuta le persone a comportarsi bene del punto a sappiamo niente la nascita e allora io ho voluto entrarci ho scritto un racconto dove racconto la mia nascita ma racconto proprio i nove mesi passati nella pancia di mia mamma quello che sentivo fuori era l'atmosfera del miracolo economico sentivo parlare di debiti di fatica di lavoro parto anche da molto prima e vi racconto un po di miei avi cosa hanno combinato nella vita dei miei avi ma sto parlando di grecia antica di roma antica li ho identificati li ho trovati tutti vi divertirete molto a leggere cosa hanno combinato i miei avi sono stato uno dei beoti perché uno dei miei avi era un luogotenente di epaminonda e quindi è vero ma certo ma c'è mai perché uno si mette a cercare queste cose ma sono andato sulla molecola ma dove sei andato ma sono invenzioni è una favola come faccio a sapere però siccome io manco so chi era mio nonno sono molto interessato a questa storia di epaminonda sono andato in beotia personalmente a studiarmela e a capire perché allora anch'io perché ma perché perché in una storia precedente pericle che è stato il più mangiareccio dei quattro pericle soccato e protone aristotele e lui si nutriva solo di prodotti agricoli che arrivano dalla beozia che è la terra fertile più bella della grecia e quando voi come sapete dei 650 anni della grande grecia antica 400 anni se li fa atene al comando 200 anni sparte 50 anni tebe e promenonda tebe capitale della beozia e quindi quando arrivano i beoti ad atene a comandare gli atteniesi che erano tutti fighetti no sai lozio creativo tutti i discendenti di aristote di platonete e dicevano questo qua sei proprio un beota volevano dire perché sono agricoltori non avevano letto molti libri come gli attenesi insomma citrulli ed è incredibile che questo termine beota sia rimasto i beoti non capivano che era una parolaccia e non effettivamente beoti cioè abitanti della beozia e quindi sono andato in beozia a cercare di capire questa storia dei beoti a scoprire le mie radici e ho scoperto che sono fantastiche che io sono un po' beota bellissimo però scusate dato che comunque sei molto preparato e io per la prima volta una persona preparata a cui posso fare delle domande e avere fiducia nella risposta perché oscar farinetti prima di essere secondo me un grande imprenditore è un grandissimo narratore e il narratore ti rassicura sempre soprattutto se lo devi intervistare perché tu sai che gli dai un la e lui risponde ma dato che mi piace anche questa tua preparazione tiro fuori anche il mio lato un po' da insegnante che non sono ma stiamo giocando e no ma qual è la frase che vorresti che fosse la tua ultima frase non c'è dubbio la stessa di manuel kant va bene così io adoro copiare e tutta la vita che copio e mi trovo da dio ma è mia ma è mia quando copi bene guarda che quando copi bene e diventa tua adesso non ho più in tasca la la bic che mi ha regalato erica prima perché racconto la storia del signor biro e del signor bic per dimostrare che chi copia bene bene fa più strada di chi inventa sapete che la la penna sfera è stata inventata da un ungherese che si chiamava biro e la cosa interessante che a dare il nome biro al biro è italo col vino come 60 quindi parecchi anni dopo perché gli faceva appena sto personaggio che è morto povero dopo aver inventato questa cosa straordinaria lui inventa sta meraviglia bic invece da tutta altra parte che faceva tutt'altro ma e che invece cercava sempre persone che avessero più talento di lui e copiava vede sta meraviglia e dice una figata questa è un'idea eccezionale cosa prende la migliora quindi dice magari facciamoli il contenitore trasparente così si vede sempre a che punto è l'inchiostra quindi se magari facciamo l'esagonale così non rotolarà dei tavoli che le scuole avevano tutti i tavoli pendenti un genio e alla fine biro muore povero e bic muore ricco io sostengo che chi copia chissà copiare bene fa un sacco di strada il più grande copiatore seriale della storia e lo spiega anche nel libro è l'uomo che quando noi ci chiedono chi è stato il più grande italiano di tutti i tempi Leonardo da vinci dovete sapere che l'uomo vitruviano prima di lui l'hanno fatto i sei lui ha visto sta roba ma che idea geniale è copiare non imitare le dimensioni dell'uomo in rapporto con la natura l'uomo al centro natura l'uomo umanesimo ma idea geniale e fa il suo uomo vitruviano e noi ci ricordiamo solo dell'uomo vitruviano di Leonardo gli altri dovevano andare su su wikipedia per capire non me ne ricordo anch'io i nomi quindi io copierò e dirò va bene così l'ho già detto anche miei figli e mia moglie sono tutti avvisati va bene così secondo me è la più bella frase che abbia mai sentito dire riferita all'attimo prima di morire qui finisco il concetto raccontami a nascita allora nel racconto successivo dico eh no adesso devo esorcizzare questo tabù come diceva Luca e quindi ho raccontato la mia morte che non vi anticipo ma a me piaciuta l'ho raccontata in particolari la mia morte e poi siccome sono un ottimista umile ho paragonato la mia morte a quella di Tostoi di Dostoevsky e di Hemingway e raccontano perché sono tre morti pazzesche e vi invito a leggere questo racconto delle tre morti di Tostoi e Hemingway e Dostoevsky perché c'è da imparare molto c'è da imparare moltissimo dagli umani di fronte alla morte di come si comportano di fronte alla morte vuoi leggere qualcosa no no faccio tutto con la coita fai tutto con la coita no non stai facendo niente di quello che voglio magari alla fine prima di finire prima di finire leggiamo magari intanto dura un minuto il primo racconto brevissimo e lo leggo io bravo a me piace che lega chi quello di Giacu e Catliga sì allora il Piemonte infatti inizia e finisce col Piemonte che per me è un viaggio esotico perché io pur vivendo essendo nato e vissuto a Torino e non avendo origini piemontesi quando leggo le tue cose anche negli altri libri sul Piemonte per me è sempre un viaggio bello no e tu che rapporto hai cioè non che rapporto hai ma c'è qualcosa della terra che conosci così bene eh che non ti piace ah beh le langhe parliamo delle langhe più del Piemonte perché poi sai sai c'è un mio grande amico che si chiamava Bartolo mascarello purtroppo non c'è più un grandissimo del Barolo che un giorno ha detto quando si entra nelle langhe ci dovrebbe essere un cartello con scritto langhe due punti gente colpita da improvviso benessere questa era la sua idea che aveva lui dei langhetti diciamo visto che mi ha chiesto la parte negativa quello che non mi piace è che forse molti non si sono resi conti del colpo di culo che hanno avuto e non lo gestiscono con una sana umiltà vedi l'altro giorno eravamo lì a Fontana Fredda c'erano due due l'ho visto io no la mia ragazza alla reception c'erano due ehm turisti francesi che sono stati a noi hanno bevuto vini importati si mette i francesi soprattutto quelli che arrivano dalla Borgogna vengono nella langha e dicano ma sto Barolo costa solo 200 euro se ne bevano due tre bottiglie perché là oramai per bere un Grand Cru devi fare un mutuo da 500 1000 euro no andiamo là eh sì bisogna andare con tanti soldi per bere bene e hanno chiesto hanno chiesto alle mie ragazze che noi vorremmo andare a visitare fanno il nome di un ottimo produttore medio piccolo delle langhe ma ce n'è tanti conosciuto di cui non farò il nome e le mie ragazze hanno detto ma certo chiamo subito hanno chiamato e dice ci sono due turisti che ci hanno già lasciato un sacco di soldi e gente valida vorrebbe venire a visitare la cantina no guardi gli dica pure che abbiamo già venduto tutto il vino e non abbiamo più niente da vendere non facciamo visitare più la cantina ecco quella roba lì spiega gente colpita improvviso benessere va in vino non va bene noi io arrivo da un territorio che avete presente visto che siete qua siete gente che amate leggere descritto da Beppe Fenoglio nella Malora cento anni fa esatti 1920 la ciuga pesa la polenta la Malora era una zona infinitamente più povera tra gli italiani come il Veneto le due zone più povere adesso forse la più ricca è scoppiato fino in mondo cioè adesso tra Barolo Berbaresco tartufo bianco eccetera noi dobbiamo mantenere la memoria della Malora da cui arriviamo e continuare a comportarci bene e alcuni non lo fanno a me mi spiace molto mi hai chiesto il lato negativo te l'ho detto poi se vuoi che ti ridica i lati positivi no no i lati positivi sono evidenti sai come i langhetti vedi a me sono fatti così no e vanno a trovarli c'è della gente che va a trovare in modo inaspettato tun tun ah però poi dici ah ah ciao ne che lupi ne nel caffè ecco questa è la frase tipica che interessante ne che lupi ne nel caffè molto interessante perché è come dire andate al diavolo ma con gentilezza ecco io ho capito che tu sei un piemontese alla fine da una cosa no che il piemontese sempre esageruma nenne mentre quando mi chiedono delle cose su Torino su cosa migliorare io penso che si debba dire esageruma penso che sia questa la 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 cosa che ci cambierà un po la vita anche se poi fondamentalmente io penso che noi dobbiamo voler bene alle terre ai luoghi alle culture per come sono così come amiamo le persone per i loro difetti c'è questa cosa ha un suo aspetto positivo però mi interessa sapere è un libro questo particolarmente ricco io ho iniziato leggendolo ci sono le storie appunto della sua memoria però poi inizia a parte Kant ma veramente con grandi approfondimenti allora ti chiedo e anche se è di grande godibilità cioè lo sforzo che ha fatto Oscar io non so credo che ci sia un grande sforzo quando leggi facilmente un libro lo dico per esperienza dietro c'è un grande lavoro proprio mi piace sapere tu e la scrittura perché alla fine è difficile immaginarlo e ti immaginiamo o come conferenziere o a stringere mani ai potenti o a convincere qualcuno a venderti un palazzo no cioè io così ti immagino e poi a bere ovviamente quello ma quello sono anch'io non mi devo immaginare ecco tu e la scrittura c'è scrivi sempre nello stesso posto c'è un angolo di una casa in cui stai meglio ti rinchiudi ti isoli scrivi sul treno intanto devo dirti questo sul tema scrittura ce l'ho fatta cioè da 15 giorni se voi fate farinetti Oscar Wikipedia c'è scritto imprenditore virgola manager d'azienda virgola scrittore italiano c'è apparsa è apparsa la qualifica di scrittore adesso io non mollerò per i prossimi vent'anni che poi è l'ultimo mio tragitto ho fatto il conto se vivo come mio padre ho vent'anni davanti vent'anni non mollerò finché ci sarà scrittore davanti virgola tutto il resto no 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 sì vabbè quella che fiamma meci non vi è dubbio no volevo dire la scrittura è per chi piace e in questo momento è un momento che piace a tanti 1400 libri nuovi ogni martedì pare che si dice ultimamente in Italia c'è più gente che scrive che legge comunque la domanda non era questa sì adesso la domanda lo sai che non si risponde mai alle domande si dice quello che vuole ecco nel mio caso non ho abitudini faccio vedere non ho abitudini ieri sera scrivevo in ginocchio avevo ero seduto sulla poltrona avevo il computer qua scrivevo mentre guardavo il marchese del grillo perché ha detto questa frase che mi è piaciuta tanto che già conoscevo da una vita io so io voi ne siete un cazzo e da lì mi è partito un trip su una roba che sto scrivendo ho sempre due libri incominciati in contemporanea che sto scrivendo e quattro cinque che sto leggendo sempre così perché io sono così sono un fachiro cioè io devo fare una marea di roba insieme davvero quindi non stai concentrato lì a guardarti la vigna no no io non riesco io mentre mi metto le scarpe mi metto la camicia e faccio sempre degli allenamenti per fare due tre quattro cose insieme fare sempre di più è una roba che mi prende ma a me dà felicità e non posso farne meno mi dà felicità non riesco a stare in macchina guidando senza fare altro però non posso neanche distrarmi e quindi vado su determinati di podcast per non so l'ultima volta c'avevo il trip di lucrezio devo conoscere di più sto lucrezio che a dirti la verità mi sembra un po una merda sto qua non dico come schopenhauer ma quasi allora mi sto studiando lucrezio ma lucrezio lucrezio lui ma prima di parlare male di lucrezio devo devo studiarlo bene comunque allora però non ho abitudini anche nello scrivere brevemente di schopenhauer cioè la cosa bella è che lui veramente poi si schiera anche con i grandi filosofi c'è schopenhauer con questa cosa l'arte di avere ragione si lo mando letteralmente a fanculo c'è c'è un racconto dove racconto sto sto disgraziato sto stronzo che arriva va va ce la fa finalmente prende la cattedra a berlino e a berlino c'era una star che era hegel ma hegel avete presente hegel un altro ottimista da morire hegel si faceva arrivare lacrima cristi da pompei già uno che fa quello è un figo magnava shopenhauer tutto contrario triste incazzato con la vita non ha senso niente non esiste la verità misogeno da morire le donne le donne sono proprio la parte negativa della vita pensate arrivava a è arrivato a scrivere pensare a scrivere questo un uomo può fare anche mille figli l'anno in teoria una donna può farne uno l'anno quindi se tradisce la donna è molto più grave del fatto che tradisca l'uomo non pensa che ragionamento un giorno una ma veramente spinge e prende a botte una vicina di casa perché diceva sulle scale scendeva perché diceva che faceva troppo rumore e questa si rompe il piede lui consente a pagare 25 scellini per tutta la vita viene condannato da questi qua è uno che prima di morire ha lasciato tutti i quattrini a ai gendarmi quelle che sparavano sul sui rivoluzionari del 48 cioè uno cattivo e e lui cosa fa cerca di fare cambia gli orari delle proprie lezioni per mettersi in concorrenza egel per portargli via gli hanno visto che era pienone cosa c'è che all'inizio va anche qualcuno poi dopo un po che l'ascoltavano vuoto egel strapieno e che non si è neanche accorto di questa sfida era tutta la roba sua e cui lui conclude dicendo io non scrivo e non faccio lezione per gli stupidi e scrive questo libro terrificante che io sono andato a vedere tra i classici e uno dei libri più venduti su amazon che non ricordo come si dice in tedesco ma lì lo dico sono 38 mosse per avere sempre ragione cioè il cinismo come si fa ad avere sempre ragione e quindi c'è la mossa di farlo incazzare in maniera che non capisca più niente e poi ti becchi la ragione l'altra mossa è informati che tipo è fai anche degli esempi e faccio tutti gli esempi tamponamento io faccio esempio come fosse oggi due che tamponano c'è uno che tampona un altro come sapete chi tampona sempre torto e ho provato ho provato a usare le mosse di Schopenhauer in effetti usandole uno che che tampona può tirare fuori questi argomenti per dimostrare che ragione quando in assoluto perché io penso che esista la verità in non sempre ma esiste per esempio chi tampona ha sempre torto punto c'è verso perché tu devi tenere la distanza di sicurezza e Schopenhauer veramente cerco di parlarne male come come diciamo non parlo benissimo di Platone mentre parlo benissimo del suo allievo Aristotele che è il mio mito ma beh perché non è vero che parli male di Platone non ne parlo ne parlo bene perché comunque ha fatto delle cose ma è bellissimo il mito della caverna io lo amo Platone ho preso delle robe che sono considerate scorbutiche perché solo un ignorante come me può riuscire a farlo a capire ad altri che magari non hanno studiato molto la filosofia prendo il mito della caverna e lo spiego in maniera che secondo me anche mio nipotino Paolo di otto anni se lo legge con attenzione capisce il mito della caverna di Platone perché volevo spiegare che Aristotele è ottimista e Platone è meno perché in genere cosa usano i pessimisti usano la tecnica del mistero per non risolvere i problemi perché li ritengono risolvibili quindi la soluzione di Platone è no il mondo delle idee l'iperuraneo è tutta una roba là noi umani poi ci siamo arrivati mentre invece Aristotele è laico Aristotele è un laico e quindi cerca di spiegare tutto e dice avete presente come sono rappresentati i due nella scuola di Atene di Raffaello e che ho dedicato ho dedicato un racconto quello è il mio preferito che secondo me è venuto bene è bellissimo ci sono questi personaggi Giulio II Raffaello Michelangelo e il Vasari e ebbene la perché sono arrivato a dire quello non lo so perché apri una finestra dietro l'altra ma siamo su stiamo su Raffaello raccontaci bene no eravamo sull'arte della ragione sì no no stavo dicendo che in il libro cerco sempre di mettere insieme due personaggi ottimisti in maniera diversa per far capire perché il libro è dedicato all'ottimismo e il mio obiettivo qual è quello di far capire che conviene essere ottimisti e quindi c'è molti racconti storici che dimostrano che l'ottimismo paga ma tuttavia esistono svariate forme di ottimismo e io cerco di narrarle per esempio mettendo in relazione l'ottimismo di Napoleone con quello di Wellington quindi da un lato l'ottimismo è gotico io sono più figo del mondo sono più bravo di tutti io batterò tutti non mi alleo con nessuno e vincerò di sicuro massimo l'ottimismo Napoleone d'altra parte l'ottimismo delle alleanze Wellington politico e noi mi alleo mi alleo con tutti mi alleo con i prusciani mi alleo con i polacchi mi alleo e cerco di vincere nati entrambi nel 1769 stessa stessa data di nascita con Napoleone che passa questi 20 anni 22 anni fantastici a vincere tutte le battaglie e poi perde con Wellington nel 1815 perde perde e non mangia il pollo e non mangia il pollo perché poi essendo questo libro fatto diciamo è slow food editore era fondamentale che ci fosse la presenza del cibo ma per me la presenza del cibo c'è in tutta la mia vita quindi figuriamoci se non c'è nei racconti pensate ai due piatti dei due quindi da un lato il pollo lamarengo di Napoleone un piatto fantasioso originale disordinato e eccentrico come lui e quindi lì c'è perché lui voleva tutto pollo lui voleva gallina e uova quindi c'è una gallina pezza gallina due uova degli gamberi di fiume pescati nel bormida poi no nel marengo gamberi di fiume e un po di cognac buttato su preso dalla sua fraschetta e dall'altra parte il filetto la Wellington quindi la parte più importante del bovino filetto ce ne sono due eh avvolto in una in una sfoglia di acqua e farina poi dorato come i suoi stivali pennellandolo con del tuorlo d'uovo ma alla fine Napoleone perde e sentite che succede quando perde perché è una cosa stiamo parlando Napoleone qui lo rivelo non soltanto del più potente più forte il più grande guerriero uno dei più grandi guerrieri di tutti i tempi tipo Giulio Cesare ma anche del più colto lui era l'uomo più colto d'Europa lui quando si muoveva e si muoveva la sua biblioteca di 60 mila volumi pensate che a un certo punto regala un quadretto a Giuseppina e dice mettilo in camera da letto questo è un quadretto di un italiano che ce l'ha venduto a noi francesi ma i francesi non capiscono un tubo dicono che non è granché a me sembra un capolavoro e glielo attacca in camera da letto era la giocombra e uno che va a fare la campagna d'Egitto ma il suo vero obiettivo era la stella di Rosetta cioè risolvere l'enigma della scrittura egiziana un genio perde e vuoterlo e capisce che la fine capisce la fine quindi il grande ottimista che cade in depressione perché lui è passato gli ultimi due anni a Sant'Elena in una maniera terribile depresso c'è convinto che 22 anni di successi cancellati dall'ultimo anno di sconfitti nessuno mi ricorderà non poteva immaginare che 19 anni dopo l'avrebbero preso portato in trionfo sepolto al panteo che oggi è considerato il francese più importante sembra uno degli uomini più più importanti di tutti i tempi ebbene lo mettono in prigione la sera dopo Gauternot e concedono dei giornalisti di intervistarlo arrivano e gli chiedono ma mon general perché ha perso aveva meno soldati no ma perché ha perso aveva meno artiglieria ma no ma perché ha perso mon general lui lui si rivolge al giornalista e gli dice perché gli inglesi hanno combattuto cinque minuti più dei francesi frase poi ripresa da Churchill never ever give up mai mollare il quale Churchill vince il premio Nobel per la letteratura è come se io vincessi il premio strega cioè un politico che vince il premio Nobel per la letteratura è come se un imprenditore vincesse il premio strega per la scrittura e con una biografia su Napoleone che lui ha studiato lungo in questo finale c'è che l'ottimismo non basta poi bisogna mai mollare c'è l'ottimismo è come l'iniezione che fa partire il motore che ti dà la voglia di vivere un progetto perché perché è bello provarci ma poi ci va la tenacia never ever give up contrario assoluto di questa forma di ottimismo l'uomo più bello che abbia mai vissuto in italia anche bello fisicamente Leonardo da Vinci un uomo straordinario di cui racconto una storia pazzesca perché in queste 52 storie ci sono tutti fatti storici realmente accaduti che i più non conoscono non per ignoranza ma perché è una parte marginale della vita del tale che sono veri ma magari non e quindi racconto che lui apre in società con botticelli un'osteria un ristorante nel 1474 sul Lungarn riescono a fallire dopo sei mesi ed è una storia esilarante perché ce l'ha intanto i due bisticciano subito per l'insegna tutti e due vogliono non fare l'insegna è normale no le due più belle mani che c'era Firenze e alla fine si accordano ok facciamola tutte e due e apre il primo ristorante del mondo con doppia insegna ma meno male che c'era quella di botticelli perché Leonardo scrive osteria delle tre rane da sinistra verso destra come ha sempre fatto e la gente non capiva con botticelli che diceva ma non capisco diciamo si prenderanno uno specchio e fa un menù pazzesco Leonardo in cucina botticelli che si chiamava si chiamava Alessandro Filipepi detto botticelli per le sue forme generose perché magnava e beveva come naturalmente botticelli in sala e Leonardo in cucina fanno menù primo menù primo ristorante col menù della storia fanno danno i tovaglioli inventati personalmente da Leonardo da Vinci lui era un fanatico dell'igiene inventa il tovagliolo non esisteva il tovagliolo nel ristorante inventa la forchetta tre punte fa un menù di nouvelle cuisine chiro farcito pastiglia di mucca spalla di serpente in realtà tutti i nomi così che nascondeva dei piatti vegetariani perché lui era vegetariano ma per prendere per il culo alla fine falliscono perché perché queste porzioni ridotte e più più l'igiene non gli affregava niente i fiorentini ma mentre botticelli se ne torna alla bottega del verrocchio con la coda tra le gambe deluso l'ottimista che convinto di farcela poi non ce la fa e sta male e Leonardo era contento era contento perché lui adorava gli incompiuti lui sosteneva godo in sovra più a provarci che a farcela e guardate questa è la caratteristica tipica degli imprenditori degli scrittori di di chi nella vita fa progetti e gli porta ci sono gli incompiuti oppure le cose di cui non hai successo che sbagli non esiste nessuno che abbia combinato qualcosa nella vita che non abbia commesso orrori anche gravi e Leonardo dice a chi se ne frega godo in sovra più a provarci che a farcela e gli ha fatto una marea di incompiuti nella sua vita però ha fatto quei pochi compiuti ragazzi di cui ci ricordiamo tutti e tutti noi conosciamo i compiuti suoi e non conosciamo gli incompiuti che sono stati in realtà una parte rilevante della propria vita gli errori e questo tutte queste storie raccontate in modo fiobesco ma sono vere puntano proprio a spiegare che non è un problema sbagliare il titolo del libro guardate mi è venuto quando ho letto l'ultima indagine di wing allup sugli italiani 2019 terribile è un'indagine su 130 nazioni del mondo ce ne è 198 quindi quasi tutte indice di fiducia e pessimismo siamo riusciti arrivare ultimi no ma che io quando ho letto stroma non ci credevo ultimi noi italiani c'è noi che abbiamo avuto il culo di nascere il più bel paese del mondo siamo i più fiduciati e più tristi sono andato a vedere pakistan terzo che cacchio ha il pakistan più di noi da tu vedere è più bello di noi beh no a sei patrimoni dell'unesco noi ne abbiamo 56 siamo primi al mondo ha più arte di noi impossibile abbiamo 70 per cento dell'arte antica del pianeta si mangia meglio di noi beh si mangia completamente diverso niente affatto vale tuttavia la cucina italiana è un pelino meglio a politici migliori dei nostri guardate per quanto i nostri possano non piacerci vi garantisco che anche in pakistan c'è il livello di corruzione che fa paura cioè il il catar gate li fa è un pelo per loro che cacchio ha più di noi perché il pakistan più felice sarà perché hanno la pancia più vuota sarà perché sono un po come eravamo noi negli anni 60 quando eravamo veramente felici uno dei popoli più felici del mondo e partendo da zero siamo rimbalzati e siamo diventati quarti al mondo in 12 anni sarà perché c'è quell'atmosfera che io racconto in quella storia che lui è piaciuta fatti mandare dalla nonna a prendere il latte quando mia nonna mi mandava a prendere il latte e mi dava la bottiglia che era sempre la stessa che ri usavamo pensate quanto eravamo moderni arrivavo dalla lattaia non aveva packaging tirava il latte e alla fine poi mi ridava la bottiglia chiudeva la macchinetta non mi chiedeva mica i soldi prendeva un libretto nero lo priva scriveva farinetti 100 lire me lo ricordo la fiducia e la vergogna fiducia da parte loro che ci davano credito senso della vergogna da parte nostra che ci saremmo vergognati a non pagare il debito alla fine settimana o fine mese come avevamo promesso e su questi due sentimenti la fiducia il senso della vergogna cerco di costruire questa storia che sono due sentimenti di cui dobbiamo riappropriarci un po molto bello bravo bravo oscar guarda devo dire sei stato molto illuminante no davvero cioè io ho un po rosicato mentre pensate come è bello per me beccarsi complimenti da perché poi io ormai lui lo conosco bene capisco quando è sincero quando è paraculo ma non mi sembra più il tipo che sia mai paraculo beccarsi complimenti da uno di cui hai letto i libri e li hai trovati meravigliosi cioè lui secondo me è uno dei più grandi scrittori italiani che io conosca ha anche avuto successo sia in letteratura che nei film dei suoi libri grazie grazie adesso mi crei mi metti a disagio parliamo di Mbappé perché alla fine sembra che sia un libro solo di digressioni colte e osservazioni acute quali sono però è bello perché ogni tanto entriamo anche nella realtà no tu dicevi prima church il never give up non arriviamoci e c'è una bellissima disamina del rigore sbagliato di Mbappé che mi ha fatto pensare molto ho detto guarda come siamo sul pezzo no il rigore di Mbappé c'è un altro racconto legato ai mondiali della canzone notti magiche ce ne pari il candidato brevemente Mbappé molto attuale perché ha appena giocato l'altro ieri io lo amo io voglio conoscere Mbappé Paolo lo conosci scusate se non lo chiedo a voi ma magari qualcuno lo conosce parenti in Algeria della madre perché qua bisogna arrivare dei parenti quindi in Puglia avrebbero già trovato il parente sicuro ma cucina ma vi ricordate che lui sbagliò il rigore sbagliò il rigore furono eliminati dagli europei di calcio quelli che abbiamo vinti noi e quindi il titolo del racconto è che ciascuno di noi nella vita ha sbagliato il rigore adesso ricordo il titolo esatto ma sbagliare il rigore e io racconto chi li ha non aver paura la che è preso dalla canzone di De Gregori e sbagliare ci sono arrivati anche loro allora il tema è che si capiva che l'avrebbe sbagliato ma si capiva quando Deschamps lo manda a calciare il quinto perché è normale è normale tu a calciare l'ultimo mandi il primo che hai più bravo della tua squadra perché quella partita non aveva azzeccato una palla non aveva azzeccato un dribbling non aveva azzeccato un passaggio era fuori ed ogni volta imprecava ed era certo che lo sbagliava e quindi l'ho seguito poi l'avevo visto guardava l'arbitro guardava il partiere guardava cerco di descrivere i minimi particolari quel rigore era vi lo sbaglio e per lui è un disastro è un disastro enorme perché lui ha alcune caratteristiche quel ragazzo lì intanto è un un secchione ma per un secchione quindi uno che fa tutti i lineamenti precisi non fuma non beve rispetto a tutte le regole quando un attimo di libertà va a vedersi i gol di Pelé per vedere come faceva girare la palla a palè proprio un secchione poi predestinato suo papà calciatore discreto interregionale di Francia sua madre campione assoluta di pallone elastico il papà senegalese e la la mamma algerina ma l'algerina di una tribù dei deserti di quelli che neanche i romani sono riusciti a domare quindi qui predestinato lui ha mangiato pane e pallone tutta la vita pranzo cena perché una creatura quindi un perfettino secchione predestinato che sbaglia un calcio di rigore e cosa è successo è successo che noi tifosi i tifosi che quando uno gioca bene ti dimentichi che guadagna 20 30 milioni l'anno quindi non è che allo stadio dici faccia ride e quando invece sbaglia non te lo ricordi e quel giorno sul suo come si chiama sito come si chiama profilo sul suo profilo gli è arrivato tutti i vaffa del mondo milioni milioni fa e il ragazzo è stato bellissimo e allora il succo della storia perché ogni storia ha una morale a volte rivelata a volte no e la morale è che quando non ce la sentiamo non dobbiamo battere calci di rigore tutti noi abbiamo dei periodi in cui non siamo in forma e io suggerisco nei momenti in cui non siamo in forma di non muoversi di stare fermi perché tutte le volte che a me è capitato di non essere in forma di essere partito per un progetto l'ho sbagliato questo è il succo della storia l'altra era breve breve che era non ti immagini che svelo io sono molto amico di Edoardo Vennato e di Gianna Nico Gianna Lidia sono anche socio facciamo il vino insieme ma davvero si facciamo il vino a Gaioli in Chianti che quote ha? non lo so avrà al 20 30 per cento mi piace però solo io potrei fare queste domande no hai fatto bene e io ti rispondo sì sì non lo so perché non lo so una quota di minoranza ma ce l'ha ma quindi firmate insieme dal notaio? eh certo ma lei viene ma cantiamo perché è intestato lei ma lei è una che legge o firma come firmo io? di me con me non legge ha una fiducia totale e non sbaglia no io ho delle persone che leggono per me io odio leggere i contratti è una roba che mi fa mi manda fuori non è bellissima la tua vita? zero è bellissimo no vorrei dire io delle persone che leggono per me lo vorrei dire anch'io lo dirò anche se non ce l'ho ma quando fai le robe grandi cosa c'entra? ma nella vita non è un problema puoi decidere e ha la stessa dignità un artigiano che decide di fare il suo lavoro da solo oppure uno come me che deve pagare no deve pagare che giustamente paga 9600 stipendio in me è una battuta è bello ma io rispondo anche le battute ma no le battute non si risponde e racconto questa storia di Edoardo Bennato che non voleva non voleva cantare queste canzoni cioè pensateci un attimo lui arrivava da tutta una roba rivoluzionaria non le sue canzoni l'isola che non c'è un giorno credi e Caterina Casedi chiama i due e gli dice dove devi fare queste canzoni? l'Analini dice lei ha fatto e fa canzoni d'amore strane rivoluzionarie ma comunque non di profilo politico sociale e pensate uno come Edoardo Bennato che deve fare una canzone per Montezemolo e con queste parole qua e allora cerca di ficargli dentro ma viene il disastro che lui immaginava i suoi fan che gli si rivoltano contro lui ancora adesso proprio ancora fino al 2000 a poco tempo fa lui non ha mai più cantato quella canzone quando si parla di quella canzone lui girava poi succede che adesso gli europei tutti si rimettono a cantare questa roba e lui imbarazzantissimo gli dice i giornalisti che gli chiedono e si rimette a cantarla e rilegge quelle parole beh al Castello Sforzesco al Castello Sforzesco rilegge quello io ero là con gli chiamano lui e ha detto io gli ho detto rileggiamo gli chiamano queste parole non sono poi così male e lì mi svela poi un segreto che alla fine gli ho detto è Gianna che parte a scritto mi fa una parola a scritto Gianna perché Gianna lei è una che vive molto meglio di Edoardo che invece è piena di problemi senti prima di chiudere ti chiedo una cosa e poi ti chiedo di leggere la cosa che forse più mi ha colpito visto che alla fine è sempre bello se in un libro noi troviamo una risposta che non cercavamo e c'è questo credo avverbio che è forse che tu metti anche nel titolo che è anche una spiegazione leopardiana e che in cui io non mi ci ero ritrovato perché non lo sapevo ma adesso lo dirò perché è una frase che addirittura io ci ho chiuso un romanzo con questa parola che è forse ed è la chiave dell'ottimista quale? Baci da Polignano chiude con forse su cui ho molto ragionato vorrei ricordarmi perché lì il violetto è tutto vabbè ma non è importante mi spiace di non riportare no avevi paura che lo facessi per compiacerti ma è bene a me che me ne faccio cioè io non mi interessa non mi interessa di mentire perché gli incipiti e le chiusure sì ma non abbiamo il tempo di parlare degli incipiti allora parliamo di forse che è una parola molto bella cioè chi è ottimista usa forse spiegaci bene Leopardi che poi riesce a farci credere è giustamente che Leopardi sia un inguaribile ottimista ben dissimulato lo è lo è lo provo nel libro e poi ci leggerà Leopardi dice testualmente forse è la parola più bella del vocabolario italiano perché non si chiude in sé ma si apre all'infinito e lui era uno che di infinito se non intendeva no? sì d'accordo forse deriva da forse it forse che vuol dire sorte sit che è il congiuntivo presente del verbo essere sia sorte sia destino usata sempre in senso positivo anche da noi romani italiani latini poi nel medioevo che eravamo tutti pessimisti noi italiani siamo stati così ottimisti pessimisti ottimisti pessimisti e se andate a guardare i periodi storici con i sentimenti prevalenti laddove eravamo ottimisti per esempio vi cito tre momenti Traiano c'è il momento dell'impero dove non c'era solo la forza e la potenza c'era anche la Pietras e la Caritas era il momento più forte per Roma rinascimento miracolo economico dopo guerra tre momenti di ottimismo sfrenato eravamo ricchi eravamo insomma in armonia eravamo un po' per maraviglioso quando ci sono stati pessimisti medioevo abbiamo bruciato Giordano Bruno in piazza primi 50 anni del novecento insomma non ci siamo comportati molto bene nei primi 50 anni del novecento ne nella prima o nella seconda guerra mondiale peggio nella seconda ma ebbene e abbiamo fatto dei disastri mentre invece gli anglosassoni usano il force il force che loro chiamano maybe in una maniera straordinaria sono in senso ottimista io trovo che è straordinario un popolo che comincia a parlare dicendo maybe forse costa est e costa ovest degli Stati Uniti nel centro degli Stati Uniti sono molto peggio di noi e leggono molto meno di noi non preoccupiamoci in questo momento ma sto parlando l'America gli Stati Uniti non è un popolo sono diversi maybe lo usano come magari come speriamo è lo stesso uso del force latino di Romano io ho ragionato molto su parola forse e cosa vuol dire che io è nata prima la gallina intanto prima parte è semplice è semplice voglio dire che bisogna scegliere e ho preso il dilemma dei dilemmi irrisolvibile dai scienziati è un problema di sociologi filosofi persone ed è chiaro che chi è ottimista sceglie la gallina che è movimento azione decisione e chi è pessimista sceglie l'uovo che è staticità e mobilità fatto puoi anche schiacciarlo è una roba di pancia ti viene di pancia di scegliere la gallina io cerco di aiutare questo attraverso questo libro scegliere la gallina infatti dico sempre e ve lo dico anche voi io sono contento e se comprate il libro dopo molto contento perché io do tutti i miei diritti io faccio altro nella vita non faccio scrittore quindi tutti i miei diritti ho già venduto più di milioni di libri grazie ma grazie al fatto che ne vendo tanti all'estero ebbene e di me no ma perché è successo un milione quanto in più perché anche un milione ma è successo che un libro mio ha fatto 72 mila coppie in Italia e 300 milioni degli Stati Uniti ed era un libro sul vino ma io sono più credibile quando parlo di vino o di cibo ebbene altrimenti io ho questo mio zoncolo duro di 20 25 milioni che comunque è tanto che prende tutto sul serio no sono contento sono comprati perché tutti i diritti del dottore dei miei libri vanno vanno una roba giusta una roba figa tipo Donciotti tipo Fondazioni tipo Emergency non li tengo per me adesso i prossimi devono darli tutti a Casa Ozz perché oggi Enrico Barico mi ha fatto vedere dei progetti di Casa Ozz strepitosi prossimo libro tutti i diritti sono tuoi perché te lo meriti lei segue i bambini è proprio brava quindi crisi deriva da crisis greco che vuol dire scegliere è molto semplice crisi siamo davanti a due porte dobbiamo scegliere è tutta la vita che sono in crisi io non sono così spaventato dall'attuale crisi ho cominciato a lavorare nel 78 nell'80 gli interessi se c'è qualcuno vicino a mia età se lo ricordo gli interessi sono dati dal 4 al 24% in 6 mesi meno male che mio papà aveva fatto tanti mutui perché se no non avremmo avuto niente ma ragazzi non riuscivamo a farcela a pagare gli interessi quando l'interesse è il 24 25% poi nel 90 vi ricordate come eravamo in crisi ci siamo dimenticati Amato ho dovuto fare la patrimoniale nel 2001 sono venuto i giuretori gemelli ma vi ricordate che stato psicologico eravamo nel 2008 c'è sempre stata crisi perché noi umani siamo condannati secondo me felicemente a vivere con delle crisi la crisi è bellissima scegliere deriva anche alcuni dicono da crisi sempre latino sempre greco che vuol dire distinguere quindi ho preso il dilemma dei dilemmi e dico io scelgo la gallina ma poi c'è forse perché sono mica sicuro di una scelta la strada giusta nessuno è mai sicuro di niente quindi che problema c'è se mi accorgo che ho sbagliato torno indietro e riprendo quell'altra strada se mi dimostrano che sicuramente è nato prima l'uomo io chiedo scusa e cambio idea che problema c'è quindi in questo titolo e nel forse c'è tutto quello che intendevo dire poi ho cercato di fare 52 racconti piacevoli divertenti perché un saggio su sta roba qua due palle poi ultimamente faccio fatica a leggere i saggi preferisco leggere i romanzi e soprattutto i romanzi di cui non riesco a capire il finale dimmi la verità la 52esima storia senza rivelare niente Anita è bianca il finale ti ha stupito o lo immaginavi? è bellissimo no 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 sto parlando giallista no poi col segno col senno di poi non mi fare dire cose che no è molto bello comunque la genialata è chiamare Anita è un uomo bellissimo che era un soprannome del padre però io direi per chiudere visto anche l'ora il racconto piccolo tanto dura due minuti sui tagliarini sui tagliarini cucinati e dura due minuti e dopo di che finisce tutto io sono a disposizione vi firmo volentieri il libro ma non posso e non compratelo lo voglio dire io perché sono più marcante di te scusa in questo almeno ti batto compratene 4 o 5 a test regalate i libri a Natale poi se non volete comprare il mio comprate uno del mio comprate altri 4 o 5 ma libri regaliamo libri siamo terzi per PIL in Europa su 27 paesi e ventitresimi per tasso di lettura avete capito dov'è il problema dei problemi che non leggiamo un cazzo e un popolo che non legge non ce la può fare a cosa serve legge leggere serve a forse serve a farsi venire dei dubbi le persone che leggono sono pieni di dubbi quelli che non leggono sono sicuri di tutto perché non conoscendo niente l'unica cosa che conoscono è il proprio pensiero e sono sicuri che è quello giusto dobbiamo leggere e soprattutto se avete qualche amico pessimista o parenti che è propensi a scegliere l'uovo regalateli questo libro vedrete che se per caso lo legge vi dirà per tutta la vita grazie mi hai aiutato a capire un po' di robe il primo racconto che si intitola i terri ricucinati e anche uno dei più brevi si riferisci si riferisce al momento primordiale dell'ottimismo quindi parto con questo che è godere di quello che hai la prima forma in assoluto di ottimismo è contentesse che è una storia che fa bene si intitola i terri ricucinati e memorizzate la data perché la data è molto importante oltre che il luogo ma il luogo è la morra e la data è 13 novembre 1989 89 e dice così Numancura cui tagliatele dimenica letteralmente ne abbiamo ancora di quelle tagliatele di domenica essendo lunedì avrebbe potuto dire ieri ma la parola domenica è sempre speciale in bocca a un contadino dunque andava detta Giacomo classe 1914 stava uscendo per un giro nell'orto un passaggio tra le galline e i conigli infine un salto in cantina per dare un'occhiata al suo vino nuovo i figli ormai se ne erano andati da un pezzo vivevano ad alba con le loro famiglie e lo avevano convinto a vendere tutta la terra ma lui se ne era tenuto un pezzettino davanti a casa per fare il contadino uso famiglia fino a quando se la sarebbe sentita aperto l'uscio aveva pensato la cena e si era rivolto così a Caterina Caterina sua moglie classe 1918 numancura cui taerina dimenica domanda retorica in realtà gli aveva visti quei taerina del D di festa belli giacotti e conditi nel frigorifero dentro una padella sotto un vecchio coperchio in alluminio non aveva nemmeno avuto bisogno di alzarlo forse aveva risposto Caterina aveva uno sguardo furbo mentre lo diceva sapeva bene che Giacco era sicuro che ci fossero lui voleva semplicemente comunicarle il menù desiderato per la cena invecchiando era diventato goloso e lei lo secondava non le pensava a farlo anzi se ne compiaceva in quel modo assolutamente langhetto cioè senza darlo intendere in pubblico e soprattutto senza mai esserselo detto una volta quei due si amavano da 50 anni gli aveva fatti la domenica mattina presto i taerina per i suoi figli le nuore i nipotini che erano venuti a pranzo i mitici taerina di nonna Katlinga negli ultimi 15 anni di anno in anno aveva gradualmente aumentato il numero delle uova nell'impasto e diminuito i tempi di cottura così accontentava i figli che li volevano più ricchi e al dente ma anche Giacco che li preferiva ben cotti riscaldati il giorno dopo sul putage la cucina economica che funziona a legna ricucinati e proprio per questo belli croccanti Giacco ne assaporava la consistenza mentre recriminava su quell'esagerazione di uova sottratte al suo pollaio ma mai davanti ai figli perché si trattava di una loro confidenza di un gioco tra marito e moglie quando lui era rientrato faceva già buio il tavolo era pronto con la tovaglia del giorno prima neanche troppe macchie dai Giacco ci aveva appoggiato il pintù doppio litro di dolcetto prelevato in cantina bello fresco e aveva acceso il televisore Catlina aveva messo la padella sul putage e due bei pezzi di legna nel fuoco il telegiornale parlava del muro di Berlino ormai erano quattro giorni che non si occupava d'altro si vedevano tanti giovani col piccone in mano che lo stavano battendo sembravano impazziti per la gioia ma si capiva quanto avessero sofferto mentre Catlina metteva i terrini nel piatto profumati e fumanti Giacco riempì due bei bicchieri di dolcetto intanto pensava quando era giovane lui ed era partito per la guerra la stessa guerra che poi avrebbe portato quel muro mise in bocca la prima forchettata risucchiando rumorosamente il boccone come gli piaceva fare quando erano soli i loro due poi guardò Catlina con finto imbarazzo e sincera tenerezza lei aveva gli stessi occhi di quando era giovane e bella occhi che lo guardavano ancora nello stesso modo asciutti e brillanti riuscivano a esprimere amore rispetto complicità e rimprovero insieme roba di langa ma chi sta meglio di noi pensò Giacomo normalmente non l'avrebbe detto ma sentiva dentro di sé che quello era un momento speciale allora lo disse ma chi è lo che sta a me che noi Catlina lo guardò con un sorriso di doveroso stupore stava per rispondere ma le vede il sospetto che non si trattasse di una vera domanda che fosse come quando Giacomo le aveva chiesto di Tarin ora che ci pensavano quasi tutte così le domande di suo marito non mancura ma chi è lo che sta a me che noi pensò Catlina nessuno ma non lo disse continuando a sorridere afferò il bicchiere di dolcetto e le beve un sorso era buono Oscar Farinetti Luca Bianchini è nata prima la gallina forse grazie a tutti grazie a tutti